eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi fatemi subito ringraziare per la live di ieri sera mamma mia in quanti eravate grazie 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 veramente di cuore un supporto pazzesco per vedere la prima missione in anteprima mondiale di mv3 ed è visto ragazzi ci avevo indovinato a pieno erano troppi l'easter che saremo andati sulla prigione di verdansk perché era presente in tutti i teaser in tutti i trailer fino ad ora e infatti ecco quello che poi è stato vi lascio in alto a destra ragazzi direttamente tutto il video di presentazione di ieri sera con anche tutte le parti tradotte e via dicendo così ve lo potete andare a vedere commentato da me commentato ovviamente dalla community che stava in live con me grazie veramente di cuore colgo l'occasione come sempre per ricordarvi di supportarmi anche qui su youtube oltre che nelle live giornaliere vi aspetto oggi alle 14 e adesso ecco mi ero fomentato perché avevo indovinato la mappa ho fatto la scommessa con alcuni membri della community e mi raccomando un bel mi piace ed iscrivetevi in descrizione invece salvatevi la mia collaborazione il link di collaborazione con Enebba dove troverete dei prezzi letteralmente pazzeschi per i gold per i plus per il game pass per comprare il mv3 per i giochi in arrivo e chi più ne appena metta prima di parlare delle novità in aggiunta a quello che vi ho detto nella live di ieri sera partiamo con due notizie molto importante la prima vi do finalmente uno sviluppo e un aggiornamento relativamente alla questione dell'acquisizione di Microsoft meglio di Activision da parte di Microsoft come sapete è stato accettato praticamente da tutti Activision e Microsoft hanno vinto il ricorso negli Stati Uniti che era stato un altro paese che aveva bloccato l'acquisizione rimane soltanto la Gran Bretagna bene Microsoft proprio ieri ha annunciato che cederà i diritti di streaming dei giochi di Activision Blizzard ad Ubisoft nel Regno Unito questo ovviamente varrà soltanto nel paese negli UK per far approvare l'acquisizione di Activision Blizzard dalla CMA che è l'antitrust del Regno Unito Ubisoft quindi avrà accesso a tutto il catalogo dei giochi di Activision Blizzard e per i nuovi giochi dell'azienda per i prossimi 15 anni i giochi arriveranno sia sull'abbonamento dell'Xbox classico quindi sull'account quello di Microsoft che su Ubisoft Plus oltre quelli più vecchi nel catalogo Ubisoft Classic su PlayStation voglio subito chiarire una cosa questa cosa ovviamente riguarda soltanto il mercato della Gran Bretagna ma non sarà necessario abbonarsi a Ubisoft Plus per ridurre e per quindi per riprodurre streaming i giochi di Activision basterà essere in grado di utilizzare l'Xbox Cloud Gaming tramite Ubisoft all'interno degli UK quindi non ci saranno minimamente problemi per coloro che sono in Gran Bretagna se c'è qualche mi iscritto che risiede lì ragazzi state tranquilli non vi dovrete fare un altro abbonamento per giocare i titoli di Activision quindi finalmente dovremmo arrivare come si dice a Dama per l'acquisizione vi faccio vedere invece un'altra cosa di cui mi avete chiesto dettagli nei giorni passati queste immagini di cui avevo già parlato nei giorni passati ma finalmente l'ho pulita e non c'è tutta la riproduzione di sovrascritto Volt e via dicendo l'avevamo già vista se ben vi ricordate su MW 2019 cioè la possibilità di trasformare le armi in quello che vogliamo noi ad esempio un SMG diventare una mitraglietta una mitraglietta o meglio un SMG diventare un assalto un assalto diventare una mitraglietta una mitraglietta diventare una pistola una pistola diventare un assalto bene l'armeria si evolverà su Modern Warfare 3 con l'aggiunta di queste parti di ricambio che permetteranno ai giocatori anche una maggiore personalizzazione e quindi la creazione di nuove combinazioni di armi queste che state vedendo sono le prime due Volt Weapon che saranno presenti all'interno del gioco su MW 2019 se non ricordo male ne era stata presentata soltanto una e poi era morto tutto così nel dimenticatoio quindi su MW 3 dovremo avere molte più scelte molte più varianti di ottimizzazione di creazione di armi completamente diverse uno dall'altro ma vediamo altre bombe che sono arrivate dall'evento di ieri sera sentite bene è stato annunciato ieri sera ragazzi il nuovo evento Call of Duty Next quindi ragazzi lo cominciano a prendere proprio come evento annuale lo seguiremo in diretta per quello iscrivetevi se ancora avete fatto della piattaforma viola perché arriveranno eventi su eventi sul mio canale e quindi cosa molto importante il 5 ottobre scopriremo il reveal del multiplayer di MW 3 quindi bisognerà attendere fino al 5 di ottobre io speravo come è successo nei vecchi code che tutto fosse presentato a settembre beta comunque ad ottobre ma adesso ho anche le date ufficiali della beta quindi a settembre molto probabilmente o parleranno ancora di campagna speriamo di no perché ragazzi se no sta per arrivare questo ottobre speriamo che ti hanno informazioni su zombies comunque il 5 ottobre in questo importantissimo evento avremo notizie su MW 3 reveal quindi il reveal di MW 3 con i primi gameplay notizie sul futuro di warzone e soprattutto arriveranno anche notizie su warzone mobile speriamo che confermino l'uscita nel mese di novembre non venga rinviato nuovamente come era successo direttamente a maggio quindi il 5 di ottobre faremo un evento qui sul mio canale riporteremo tutta la diretta che molto probabilmente streamerà con la video di quindi la tradurremo parleremo di tutti i dettagli e quant'altro quindi sarà 5 e 6 ottobre saranno due giorni veramente di fuoco perché vi dico 5 e vi dico 6 ottobre perché finalmente sono state ufficializzate le date della beta tutte le date che vi avevo riportato nei giorni passati sono state praticamente confermate quindi sono le stesse identiche sono contento che come se spesso accade come ormai accade le nostre fonti sono stra attendibili grazie come sempre a voi ragazzi per il supporto cercherò sempre di portarvi più chicche in anteprima facciamo quindi subito un recap partiamo dal weekend di primo diciamo primo weekend di beta che sarà a sola discrezione di playstation quindi il 6 e il 7 di ottobre potranno giocare soltanto coloro che hanno fatto il preordine su piattaforma playstation nessun altro l'otto e dall'otto al 10 di ottobre invece avrete l'open beta quindi potranno giocare sia coloro che hanno fatto il preordine su playstation sia coloro che non lo hanno fatto su playstation quindi dall'otto al 10 possono giocare tutti quanti coloro sono su piattaforma ps quindi due giorni come spesso accade di accesso anticipato per il preordine la seconda settimana è ovviamente cross play beta vi ricordo che si potrà giocare con i vostri amici in cross play quindi non ci saranno problemi potrete giocare se siete su ps con amici xbox con amici con pc e viceversa quindi nessun problema allora le date qui sono diverse perché abbiamo il 12 e il 13 di ottobre che sarà ancora beta quindi open beta ancora playstation quindi possono giocare sempre tutti però qui avremo l'accesso anticipato a coloro che hanno fatto il preordine su xbox e pc di modern warfare 3 ma quando potranno giocare invece tutti i giocatori di xbox e pc senza il preordine nell'open beta che si svolgerà dal 14 al 16 di ottobre che sarà quindi un open beta dove potranno giocare tutti coloro che stanno su xbox tutti coloro che stanno su pc tutti coloro che stanno su playstation indipendentemente dal preordine o meno quindi fine questa metà ottobre potranno giocare tutti quanti tre giorni di fuoco per provare mv3 dalle prime informazioni dovremo avere alcune mappe come sapete arriveranno da mv2 2009 quindi ancora non sappiamo quali di quelle 16 arriveranno nella beta e ci sarà una mappa guerra giocabile dalle prime informazioni rilasciate dalla sledgehammer games rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni vi darò tantissime altre informazioni in anteprima quindi se ancora non este fatto iscrivetevi sul mio canale lasciate un bel mi piace e mi raccomando supportatemi oggi passate anche alle 14 live approfondiremo tutto quello che è successo nella live di ieri sera e via dicendo vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo invece domani per un nuovo video Grazie